Cioccolato a fiumi in piazza Alodi. Per tre giorni è andata in scena l'ormai tradizionale festa del cioccolato artigianale, inserita negli appuntamenti autunnali del centro storico della città. Negli stand allestiti appositamente per la rassegna è stato possibile gustare ed acquistare il cioccolato prodotto dalle migliori scuole regionali, a partire da quella piemontese, nota ed apprezzata in tutto il mondo. Le prelibatezze a base di cacao hanno assunto ormai le forme più svariate, dalle abituali barrette rettangolari alle riproduzioni degli arnesi del fabbro, dalle imitazioni delle scarpe tacco 12 ed oltre alle immagini degli animali scomparsi da migliaia d'anni. Non solo cioccolato però in piazza della vittoria. C'è chi ha proposto l'immancabile liquerizia declinata in tutte le sue forme e declinazioni e chi, riproponendo una lunga tradizione dolciaria, le originalità della pasticceria meridionale, a partire da quella siciliana. Si è fatto spazio anche ai giochi per i bambini e alla didattica, con uno stand allestito come un vero e proprio laboratorio attraverso il quale scoprire il processo che conduce dal cacao al cioccolato nella sua forma artistica. Tanti come sempre i visitatori presi per la gola si sono lasciati tentare da un prodotto che attira tutti uomini e donne, grandi e piccini. Anche un'ape non ha potuto fare a meno di gustarsi qualche goccia di cioccolato, vera delizia da leccarsi le antenne.